Giro delle Valle Aretine alla 52esima edizione, la corsa abbandona l'arrivo in salita di Rigutinelli e torna ai rettifili rigutinesi. 154 Elite Under 23 alla partenza in direzione di Cortona con un primo assaggio di salita, poi le veloci strade fino ad Arezzo e via verso il passo della Scheggia dove il gruppo è passato estremamente frazionato in plotoncini. Ricongiungimento andando fino ad Anghiari e poi alle ville, tentativi e riassorbimenti ad andatura fortissima. Si è formato infine un gruppo di 16 battistrada, alla Foce hanno perso contatto in quattro, poi altri due. A 5 km dalla conclusione i 10 battistrada, ormai imprendibili, hanno iniziato le fasi di studio per la migliore posizione nella volata. A 1 km dalle traguardo di Rigutino, scatto prodigioso di Jovshev, bulgaro, che è stato ripreso ma ha scattato ancora ai 500 metri ed ha vinto di forza. Questo l'ordine d'arrivo. Primo Zivkov Jovshev del Cycling Team Friuli ha coperto i 155 km di 800, in 3 ore 35 alla media di 43,479, fortissima. Al secondo posto Nicola Boeme della Zalfe, al terzo Enrico Barbina della Trevigiani, al quarto Marco Canola della Zalfe e al quinto posto Gennaro Maddaluno della ciclistica Malmantile. Ma sentiamo il vincitore. Un finale mostruoso, diciamolo così, una potenza la tua inaudita. Sì, sono partito l'ultimo chilometro, ma gli ultimi 500 metri mi ho ripreso e dopo sono partito ancora e sono riuscito ad arrivare a fine fine.